Ciao Pivelli, è tutto pronto come vedete, siamo su uno dei tavoli di questo Day 5 PT Pokéstar Sanremo questo è il tavolo televisivo ma ricordiamo che non andrà in diretta streaming, la diretta streaming sarà solamente per domani per il Final Table oggi sono in gioco ancora 24 giocatori e dovranno rimanere in otto per il Final Table che assisteremo domani e naturalmente capiremo chi sarà il vincitore di questo European Poker Tour Sanremo speriamo naturalmente da italiani che rimanga in Italia la nostra, anzi rimanga per meglio dire per la prima volta che rimanga in Italia la picca del nostro EPT in quanto non è mai stata vinta da nessun italiano la tappa di Sanremo, ciao a tutti e dopo che vi taglia